Ronaldo sta lavorando e speriamo di averlo per la partita con l'Ajax, è difficile però speriamo di averlo, lui sta lavorando bene tutti i giorni e quindi bisogna essere fiduciosi. L'esame di oggi va molto meglio, la gamba sta molto meglio e poi c'è un esame clinico e poi c'è la sintomatologia del giocatore, mancano ancora 8 giorni, 9 giorni alla partita quindi abbiamo ancora tempo per poter valutare insieme le cose, lui sta facendo delle cose che può fare in questo momento, è normale che bisogna essere attenti in tutto e valutare i pro e i contro, questo è poco ma sicuro. Troveremo un Cagliari che in casa ha fatto 24 punti su 33, ha subito solamente 13 gol, è in un buon momento di forma perché ha battuto se non sbaglio l'Inter e la Fiorentina in casa e domani vorrà fare un'impresa storica, è tanti anni che il Cagliari non batte la Juventus in casa e noi bisogna andare laggiù e fare una bella partita, una partita a Tosta, una partita di battaglia e portare via il risultato e conquistare il risultato perché come vi dicevo prima della partita di Empoli, la partita di Empoli è una partita importante, prende tre punti perché poi il Napoli ha vinto a Roma, il Napoli ora è nelle condizioni che non ha niente da perdere, potenzialmente può vincere le nove partite rimanenti e quindi può arrivare a 90, quindi bisogna pensare che in nove partite bisogna fare 12 punti, questo è quello che bisogna pensare. Con la Champions nel mezzo, bisogna andare avanti in Champions, quindi c'è bisogno di recuperare i giocatori, però domani è una partita che comunque bisogna andare laggiù e battagliare e portare a casa i tre punti, questo contro una squadra che in casa si trasforma perché fuori casa prende tre, a parte l'ultima partita a Chievo, comunque è una squadra che prende due o tre gol alla volta, fuori casa e in casa invece ne fa tanti e ne prende pochi perché il campo è più piccolo, perché battagliano, perché di testa è una squadra forte, perché Pavoletti è un ottimo giocatore, perché ha gli esterni che crossano molto, perché danno molta intensità e quindi bisogna prepararsi e quindi è anche uno stimolo per noi a fare una bella partita. Io mi auguro che Ken abbia l'intelligenza e soprattutto abbia chi lo gestisce, lo aiuti a capire, può diventare un giocatore importante, però questo dipende solo da lui, io dico sempre aiutati che Dio ti aiuta, uno lì può dire tante cose, al momento è migliorato anche sotto quell'aspetto lì, può avere un futuro, c'è tanti che sono passati, noi ci scordiamo dei giocatori che erano fenomeni e poi sono spariti dalla circolazione, ecco perché io dico che ci vuole sempre molta calma, basso profilo, giustamente voi fate il vostro lavoro e dovete enfatizzare, dovete scrivere articoli o televisioni, giustamente, però dall'altra parte ci vuole qualcuno che lo diri giù, perché se no dopo bisogna andare a mangiare con la balestra. È una gestione semplice di un ragazzo di 19 anni che è un momento che le cose gli vanno bene per le qualità che ha, però la carriera è lunga, ci saranno momenti in cui le cose gli vanno meno bene, perché avrà degli alti e bassi, in quei momenti lì deve rimanere sereno, perché ora vede tutto giusto dall'esterno, è normale, il ragazzo di 19 anni che fa gol nazionale, gol con la Juventus, è normale che possa un attimino perdere e qualcuno li potrà far perdere un po' quella che è la realtà, però la realtà è ben diversa da quello che dicono gli esterni. Nella realtà è molto semplice, lui deve venire tutti i giorni al campo, e non è facile per un ragazzo di 19 anni mantenere l'equilibrio, tutti i giorni al campo, lavorare, migliorarsi quotidianamente, perché l'altro giorno ho visto Chiellini fare un lancio di destra di 40 metri, Chiellini credeva che il passaggio più vicino faceva a 10 metri, credeva che non potesse arrivare a giocare la palla a 40 metri, e invece siccome tutti i giorni si è messo lì a migliorare quei lavori lì, l'ha migliorato. A Cagliari vedremo cosa dà in campo, è giovane, ha entusiasmo, ha fatto un altro gol, sta bene, quindi domani per lui è un bel test giocare a Cagliari in quel campo contro una squadra tosta, quindi è un bel test, è un bel test per la crescita del suo percorso, cioè non è che se domani a Cagliari le cose non dovessero andare bene, allora Ken è quello di oggi, è quello di ieri, non cambia assolutamente niente, ripeto, è un ragazzo di 19 anni, che ha delle qualità importanti, che in questo momento sta facendo vuole, e speriamo che continui a farne per la Juventus, una grandissima squadra deve avere, quando gioca una partita con l'Atletico Madrid, in quel modo lì deve essere la normalità, quando poi il giocatore arriva ad avere una normalità in quelle partite lì, per quelle partite lì, allora mentalmente è pronto per giocare 50 partite.